I colli eugani sono una bellissima realtà geologicamente di origine vulcanica che costituisce un vero e proprio scrigno ampelografico dove le uve acquisiscono un carattere straordinariamente fine, identitario, elegante e danno origine a una molteplicità di vini davvero di straordinaria qualità. L'azienda Montegrande della famiglia Cristofanon interpreta a meraviglia questo areale geografico in particolare con il vino ottomano un rosso derivato dal classico blend euganeo meglio noto come taglio bordolese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Un vino rosso denso, importante, profondo che acquisisce la sua straordinaria complessità da un lungo periodo ben 30 mesi di maturazione in barrique piccole botti di rovere francese da 225 litri colore rubino profondo, quasi impenetrabile naso intenso di mirtillo e ribes rabarbaro, sensazioni di pepe, di cannella, di chiodo di garofano e poi ancora un tocco di grafite, humus e una sensazione meravigliosamente balsamica ad abbracciare il tutto. Sorso pieno, raffinato ed elegante, molto bilanciato dal punto di vista gustativo tra freschezza, sabidità e un tenero, delicato abbraccio alcolico. vino da degustare in ampi calici a una temperatura classica di 18 gradi meraviglioso in abbinamento con i grandi arrosti di carne bianca in particolar modo capretto e agnello.